tagliare la provola la pizza è pronta per essere condita iniziamo con qualche cucchiaio di salsa di pomodoro la provola la pizza è pronta inforniamo in un forno già preriscaldato a 220 gradi per 20 minuti ovviamente questa è una pizza sottile quindi ha bisogno di minore cottura la pizza è pronta per la pizza